Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 22 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Ridenti tra i lacrimosi. Nessuna animosità, nessun dispetto nei confronti altrui, semplicemente con la luna caliente il leone e il suo dirimpettaio Marte polemico come piace a voi in se stile, vi sentite perfettamente a casa. Aggiungeteci anche il doppio trigono del sole e di mercurio da ieri in ariete, insomma, un interscambio energetico, fantastico per voi segni di fuoco, che al lavoro vi applicate con passione, senza trascurare gli affetti, i figli, il partner, gli amici. Magari di tanto in tanto alzate la voce, ma questo a parte delle vostre abitudini, tanto che nessuno ci fa più caso. Unica raccomandazione, al volante non abbiate fretta, anche se il ministro dei trasporti alza i limiti di velocità a questo non significa che dobbiate andargli dietro, se qualcuno non ragiona o segue logiche diverse, che almeno lo facciano gli altri, tremila morti all'anno sulle strade bastano e avanzano e poi che l'umano senza regole da sé stesso non si limita bisognerà pure che a obbligarlo siano le leggi, magari un futuro ed enico quando tutti saranno mauri, ma per ora. Imbarazzati per esservi sentiti chiamati in causa? Pensate con il cuore e saprete come regolarvi. Una nuova coppia potrebbe nascere presto e rapidamente, due persone giuste che si sono incontrati vivranno un nuovo amore e una nuova stagione. E il rapporto perfetto di coppia che si vive e si vorrebbe vivere. Presto i single potrebbero conoscere l'amore e la persona giusta potrebbe essere tra quelle già incontrate. Termine della solitudine. Giove in aspetto favorevole vi darà oggi alcune soddisfazioni, soprattutto in merito ai rapporti con gli altri. Se il cuore duole ancora, Venere saprà consolarvi mostrandovi un piccolo pezzo del futuro. Non prestate orecchio a inutili pettegolezzi, potrebbe essere fatale per voi essere coinvolti in pettegolezzi inutili. Procurate piuttosto di lavorare per portare pace nel vostro ambiente. Ottime prospettive in campo sentimentale, oggi il cielo vi suggerirà delle giuste strategie e delle buone ispirazioni per essere irresistibili. Circostanze favorevoli si predispongono per voi, un progetto che accarezzate da tempo potrebbe essere avviato proprio in questo periodo. Non demordete e cercate di essere concreti. Qualche spessa di troppo vi metterà in ansia. Oggi potreste ricevere qualche risposta negativa da parte di un amico a cui avete chiesto un favore. Non prendetevela e cercate subito di capire come fare per risolvere la questione. Oggi potrebbe aprirsi per voi una fase nuova ma, nel contempo, anche delicata, ci sono molte cose da ordinare nella vostra vita e l'amore è tra quelle. Siate prudenti ma lasciatevi anche andare una volta tanto. Se avete intenzione di chiedere un prestito finanziario o un mutuo, ma anche una normale cessione di quinto di stipendio, non limitatevi a chiedere poche proposte. Fate in modo da esaminare le condizioni di più proposte e predetevi il tempo necessario per chiedere consiglio a persone più esperte di voi. Oggi ci sono concrete possibilità che arriviate tardi a qualche appuntamento, anche importante. Premunitevi e cercate spedienti per essere puntuali. Mettete in chiaro subito le cose con una persona che cerca tutti i costi di farvi innervosire, siate delicati ma decisi e poi girate pagina e proseguite per la vostra strada. Vi godete ancora un buon transito di Plutone nel segno amico dell'acquario, che vi apre a una giornata di leggerezza, di buon umore, di facile sintonia. Anche la luna, dal leone, è dalla vostra parte. E il pianeta femminile, ricettivo, capace di creare empatia tra gli esseri umani, vi consente oggi di mettervi in contatto con nuove realtà, di aprirvi la mente su nuovi orizzonti, di farvi esplorare nuove situazioni materiali e di pensiero in ogni campo. Buone le influenze che il cielo invia sulla vostra salute, specie se siete nati nel mese di dicembre, dal momento che pure Marte è, per un ultimo giorno, nel segno amico dell'acquario, fornendovi vigore fisico e uno stato d'animo ilare pimpante. Venerdì di ottimo umore, non per altro a guidarne il cocchio celeste e il vostro astro guida Giove, che ritrovate abbracciato a Orano in sesta casa, dove vi fa sgobbare ma con successo attraversando la giornata senz'altro malanno che un po' di tensione nervosa o qualche colpo di tosse durante gli allenamenti con la vostra squadra. Amore ed eros. In famiglia le polemiche riguardano tutte quante i figli, sempre molto disinvolti e fin troppo autonomi per la loro età. Ne andate orgogliosi, vi somigliano, ma il buon ton lascia un po' a desiderare. Single dagli occhi sognanti pensando a un amore lontano, intanto vi coccolate il quattro zampe, meglio lui che niente. Mercurio in bell'aspetto per il vostro segno vi permette di scegliere le mete possibili della prossima vacanza estiva. E, un intuito eccezionale, combinato con un colpo di fortuna inaspettato, darà modo alla vostra attitudine di viaggiatori di scatenarsi a 360 gradi. Perché l'organizzazione di un prossimo, futuro viaggio insieme alla vostra dolce metà occupa oggi tutti i vostri pensieri. Lavoro e denaro. Perna della giornata. Dalle mille sfaccettature, la situazione vi impone di velocizzare i tempi, senza andare troppo per il sottile, in mente le vacanze che vi aspettano e la serata organizzata con gli amici, troppi interessi, troppi impegni penalizzano il lavoro, ma finché si tratta di eventi sporadici passi, purché non divenga un'abitudine. Prudenza al volante, anziché scagliarvi contro le scorrettezze degli altri sinceratevi di non essere anche voi trasgressori del codice della strada, l'alta velocità comporta molti rischi. Benessere. Nulla da ridire sul tono energetico, la vitalità, l'allegria da dieci e lode. Scherzando con i vostri figli adolescenti vi dimostrate pronti a gareggiare con loro. Tra i vostri tessuti nessuna differenza, ma dove l'avete comprato e l'isir di giovinezza? Fuori il nome del pusher. In realtà si tratta di un farmaco omeopatico dal nome emblematico, felicità alla potenza di 5. Per lei, polemizzate con la vicina, la dirimpettaia, la portinaia, che dire poi dell'assemblea condominiale che vi aspetta la prossima settimana? Parlando o meglio strillando rapidamente con voce concitata, non solo non riuscite a spiegarvi, ma non siete neppure così convincenti. Per lui, bocciate all'esame di guida? Succede, ma anziché imbufalirvi con il codice della strada provate un po' a esaminare i vostri errori per capire dove e quando sbagliate. Colore delle emozioni, arancione Barometro dell'umore, variabile con schiarite Pagellina del giorno Sentimenti, 6, attività, 9, finanze, 7, benessere, 8 Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.